In Tax We Trust, un gruppo di oltre 100 persone tra le più ricche del mondo, i patriotic millionaires, hanno chiesto ai governi di fargli pagare più tasse per contribuire alla ripresa economica globale della pandemia. Hanno scritto una lettera aperta al Word Economic Forum di Davos, dove poco prima lo NG Oxfam aveva dichiarato che i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato le loro fortune durante la pandemia.